Juventus-Siena, domenica 24 febbraio. Dopo la trasferta di Roma torniamo a giocare in casa. Ospitiamo il Siena. I toscani sono diciottesimi con 21 punti. Attraversano un ottimo periodo di forma. Delle ultime cinque partite, una l'hanno persa, una pareggiata, tre le hanno vinte. Hanno rifilato tre gol all'Inter e alla Lazio. Insomma, avversari tosti per un'altra domenica di grande calcio allo Juventus Stadium. Come sempre, tre punti preziosi in palio. Una Juve brillante in campo in un gioiello di stadio. Questa volta, però, c'è una panchina d'oro in più. A proposito, complimenti, mister.